Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! La giovane Tina Cipollari, a soli 28 anni, è stata immortalata sulla spiaggia di Monte Carlo in una foto che ha fatto impazzire i suoi fan. Indossava un bikini e un look molto diverso da quello attuale. Capelli cortissimi e rossi, grandi occhiali da sole alla moda e un costume in linea con gli anni dell'epoca. I commenti entusiastici dei followers non sono mancati, che hanno elogiato la sua bellezza e sensualità già allora, caratteristiche che la contraddistinguono ancora oggi. Un look diverso, ma sempre riconoscibile, inconfondibile come l'icona che è diventata nel tempo. I fan di Tina Cipollari si chiedono se tornerà nella prossima edizione di Uomini e Donne. Dopo una prima preoccupazione, sembra che il programma non possa fare a meno del volto amato di Mediaset. Parliamoci chiaro, senza di lei non sarebbe più Uomini e Donne, ha dichiarato Lorenzo Pugnaloni su Instagram. La presenza di Tina Cipollari nel programma televisivo continua a suscitare interesse e curiosità tra il pubblico, che non vede l'ora di rivederla in azione. La sua personalità unica e il suo stile inconfondibile la rendono una figura imprescindibile per il successo dello show. Non resta che attendere con trepidazione l'annuncio ufficiale della sua partecipazione alla prossima edizione di Uomini e Donne. Per parlare ancora una volta, le sue grenta da spuoccherichesme.